Dica 33, il medico risponde anche questa settimana in compagnia della chiarezza e della competenza del dottor Paolo Cascavilla, medico di medicina generale e responsabile dell'area tabacologia della società scientifica Assimefac. Buongiorno, ben trovato, dottor Cascavilla. Buongiorno. La scorsa settimana abbiamo parlato del fumo, il fumo da combattere, con ogni forza, con ogni strumento, con ogni mezzo, grazie anche appunto alla competenza, alla professionalità dei medici, anche i giovani medici, soprattutto i giovani medici, le nuove generazioni. E a proposito di giovani, caro dottor Cascavilla, è importante per i ragazzi acquisire stili di vita sani ed è un investimento che poi in qualche modo ci permetterà a loro di essere degli adulti in forma. Però per i giovani sembra non essere così facile. Perché? D'esta preoccupazione, la precocità allarmante del fumo nei giovani, il mondo giovanile è un immenso cantiere ricco di risorse e trasformazioni psicofisiche, ma anche di fragilità, contraddizioni e comportamenti a rischio. In questo terreno di ambivalenza, di contraddizione, si inseriscono le compagnie di tabacco che tentano in ogni modo di conquistare i giovani, attratti in modo crescente dalle nuove proposte. Da sempre i giovani sono nelle mire delle multinazionali del fumo perché assicurano loro i futuri consumatori del domani, partendo da oggi. E quindi questo cosa provoca un introito di profitti da parte loro perché la dipendenza per sua natura è longeva. Non è un fatto momentaneo, lo dicevamo la settimana scorsa, è una tossicodipendenza. Quindi le multinazionali vogliono attingere a questo bacino immenso di giovani che sono sempre più succubi di queste proposte perché adesso i giovani sono preda del mercato, anzi direi di un supermercato perché adesso le proposte da fumo si sono allargate a dismisura. Assolutamente, proprio così. A proposito di queste proposte del fumo, a proposito dei giovani come preda del mercato, del supermercato, molto spesso vediamo accanto alle sigarette tradizionali e al tabacco. Anche questi dispositivi da fumo che a volte hanno anche il sapore di frutta, il sapore del cocco, questi profumi esotici. Ecco, i giovani sembrano essere attratti da questi dispositivi. Che differenza c'è? Fanno anche più o meno male delle sigarette tradizionali. Ci porti in questa giungla di informazioni, dottor Cascaviglia. Sì, le sigarette tradizionali bruciano tabacco a circa 800 gradi e quindi liberano sostanze tossiche tramite la combustione. Migliaia di sostanze tossiche. La sigaretta tradizionale è il capostipite adesso di una lunga discendenza di altre proposte dove trovano spazio. Innanzitutto i cosiddetti prodotti a tabacco riscaldato che comunque bruciano tabacco anche se a una gradazione minore, circa 300 gradi. Poi ci sono le classiche sigarette elettroniche, una cartuccia contenente liquido, in genere c'è sempre l'onnipresente nicotina, ma anche aromi, ma anche sostanze tipo metalli pesanti e anche qualche sostanza che non è presente nella sigaretta tradizionale. Comunque sulla carta, non essendoci quella combustione totale, dovrebbero essere meno nocive anche se la società scientifica si deve esprimere bene perché sono tuttora sotto l'occhio dell'osservazione. Poi, una cosa inquietante per quanto riguarda i giovani adesso, stanno spopolando le cosiddette puff bar, letteralmente cannuccia da svapare. Perché sono pericolose? Perché contengono sali di nicotina o nicotina sintetica che passa velocemente nel sangue e arriva più velocemente nel cervello e danno una dipendenza più precoce, maggiore. E quindi noi mettiamo questi ragazzi in balia della dipendenza, consegniamo loro nelle loro mani la dipendenza. Sono prodotti che vengono dalla Cina, a cui i giovani sono molto sensibili perché sono facili da manovrare, simulano oggetti tipo per le donne anche luci da labbra, oppure per gli uomini simulano le pendrive o i pennarelli, si nascondono nell'astuccio di scuola. Quindi attenzione ai genitori, attenzione agli insegnanti. E poi hanno un'altra caratteristica che non troviamo nelle altre, o meglio lo troviamo parzialmente, che sono usa e getta. Cioè il serbatoio non è ricaricabile come la sigaretta elettronica. Una volta consumata viene abbandonata, non si sa dove, nell'ambiente. Io stesso mi sono trovato qualche giorno fa a raccogliere per strada una di queste, di questi astucci, di questi nuovi prodotti, usata, abbandonata sulla soglia di un marciapiede. Rischiano di essere una versione aggiornata delle nuove cicche di sigaretta. Questa proposta è molto deleteria per i giovani. Ecco perché bisogna cercare di anticipare i tempi della prevenzione, spostare le lancette dell'orologio più indietro, perché non vogliamo consegnare i giovani alla dipendenza. È proprio così. Lei prima, dottor Cascavilla, ha parlato di queste puff bar che si possono nascondere nell'astuccio scolastico e quindi è venuta in mente la scuola. Ha parlato anche degli insegnanti, dei genitori. Come fare proprio per tutelare i giovani nel contesto scolastico, quindi partire proprio dalla scuola per lanciare messaggi importanti. Sì, anche qui con la Simefac stiamo progettando delle iniziative molto molto utili. Una diretta alle scuole medie e superiori che vorremmo chiamare più facile non iniziare a fumare anziché smettere di fumare. Ma voglio ricordare anche che per le scuole medie e superiori c'è anche una iniziativa molto importante della SITAB, la Società Italiana di Tabaccologia, a cui devo la mia formazione in merito, che mette a disposizione un film fatto da adolescenti liceali di una scuola di Milano, quindi interpretata da giovani per i giovani. E c'è anche un materiale scaricabile per gli insegnanti, i docenti, fare in modo così di stabilire un dibattito, un contatto che possa far pensare i giovani a prevenire questa abitudine. Ma abbiamo anche un importantissimo progetto per le scuole primarie. Abbiamo detto che bisogna anticipare i tempi. Nelle scuole primarie si apprende per imitazione, non per contrapposizione, come nelle epoche successive. Quindi si imprimono meglio. Questo progetto, vogliamo attingere anche a quelli regionali, vorremmo chiamarlo l'alfabeto della prevenzione. Impariamo dallo scoiattolo. Imparare quindi questo alfabeto, perché è un alfabeto primario che prima si imprime e meglio è. Lo scoiattolo perché? Perché uno scoiattolino che è nato in autunno non sa cosa lo aspetta in inverno, non è a cognizione, ma arrivato l'autunno comincia a raccogliere noci, ghiande. Perché? Perché è una bellissima immagine di prevenzione. Prevede e provvede. Presagisce la stagione futura che non conosce e si attiva. Quale stupendo esempio migliore di questo? Nelle scuole, dove le scuole insegnano agli alunni a prevenire le stagioni future della vita. Ecco, noi vogliamo questa iniziativa è diretta ai docenti delle scuole primarie. Abbiamo già contattato alcuni docenti e sono entusiasti di questa iniziativa formativa per loro. Immagino, immagino, dottor Cascavilla. Volendo concludere, abbiamo giusto un minuto e mezzo. Ci sono delle strade per ridare fiducia ai giovani affinché non vadano a rifugiarsi in queste dipendenze. Sì, a volte il vuoto interiore che li spinge. Noi vogliamo, anche la scuola deve creare delle strade che prendano le distanze dalla dipendenza. Già entrare in sintonia con loro, dialogare è già una via di speranza. Saper far rialzare ai giovani lo sguardo verso l'orizzonte. Riaccendere speranze, riaccendere entusiasmo, riaccendere i loro sogni perché possano trovare strade che appassionino alla vita, che esaltino i valori della vita e li portino a scoprire la vita come un'esperienza gioiosa, carica di bellezze da scoprire giorno per giorno. Quindi accendere la vita, la gioia, la felicità e spegnere le sigarette. Dottor Cascavilla, grazie per essere stato con noi. Immagino il dottor Cascavilla è anche su Facebook, anche sui social della Simefac e penso che magari è anche disponibile a rispondere a qualche domanda, a qualche messaggio che le aggiungerà attraverso i social. Giovani e non giovani, insegnanti e genitori. Grazie per essere stato con noi, alla prossima settimana noi intanto proseguiamo come sempre la nostra diretta.